Quando viene chiesta un sindaco di fare una valutazione sulla provincia o ex provincia o area metropolitana è una valutazione come dire viziata perché come dirà un sindaco puoi chiedere la tua città non di quello che non amministra però poi la comincio a pensare sempre di più come Enri De Luca ancora una volta che forse è il caso di fare una domandina per escludere Napoli dalle statistiche per come vengono fatte perché non mi convincono non mi convincono perché io vedo con i miei occhi ascolto con le mie orecchie cammino con le mie gambe la città e vedo una città in grandissimo cambiamento guardate da ultimo per rimanere sull'attualità ieri sera sono stato due ore a via nazionale una strada mai interessata da pedonalizzazioni da coinvolgimento di commercianti di cittadini bene è stata un'esperienza commovente come l'altro giorno a Rione Sanità o piuttosto alla Notte d'Arte c'è gente entusiasta della città che partecipa alla vita cittadina turisti innamorati di Napoli solidarietà accoglienza giovani che partecipano alla vita economica e sociale attività artistico-culturale talenti che si sprigionano voglia di affrontare meglio anche le tante difficoltà e i tanti bisogni che sicuramente sono presenti nelle statistiche ma le statistiche continuano ad essere dominate da parametri che non ci trovano d'accordo che sono quelli del consumismo, sono quelli del denaro, sono quelli della proprietà privata certo sono anche quelli dei servizi che sicuramente a Napoli per le ragioni note, carenza di risorse economiche, discriminazioni nazionali debiti accumulati funzionano sicuramente magari non così bene come a Torino come in altre città però poi confrontandomi con i cittadini che vengono da altre parti d'Italia confrontandomi con gli amministratori delle altre città confrontandomi con i sindaci d'Europa come ho fatto l'altro giorno dal Papa vi assicuro che non sia proprio da parte loro, non da parte mia la percezione che Napoli sia ultima tra gli ultimi e allora non mi appello assolutamente a una volontà di voler mettere quindi non penso alla malafede, penso proprio che non ci siamo non ci siamo a leggere i cambiamenti in atto non ci siamo a interpretare in modo diverso i parametri di vivibilità oggi Napoli ha una voglia di vivere che se si dovesse considerare voglia di vivere, passione, persone umane, solidarietà voglia di mettersi in gioco, partecipazione politica, democrazia popolare questione morale, onestà, passione, coraggio secondo me non dico che saremmo primi ma sicuramente piglieremmo la medaglia eppure questo non c'è e allora qualcuno mi deve spiegare come vengono fatte veramente allora se è così toglieteci proprio da se statistiche cioè rimaniamo nel nostro essere cuore del Mediterraneo con la voglia di costruire come ho detto davanti al Vaticano l'altro giorno una comunità dove la parte centrale la fanno le persone ecco Napoli è rimasta umana e forse è questo che dà fastidio a chi considera le statistiche solo con i parametri che servono per scalare una borsa a Tokyo, a Francoforto, a Milano o per avere i soliti parametri capitalistico finanziari quindi se continuano a fare così noi continueremo a essere ultimi